Se ti dovessi chiedere, ma è vero o non è vero che in quest'ultimo periodo tra Feletto e Davagnacco i furti sono aumentati, tu cosa mi diresti? Sono aumentati anche tanto. Anche tanto. E che cosa si può fare? Aumentare i controlli? Perché qualcuno in realtà ha anche detto, io vedo che la polizia controlla e quindi non so neanche cosa fare. Aumentare i controlli e la gente deve stare attento a quello che lascia anche custodito in macchina. Escalation di furti tra Feletto e Davagnacco nelle ultime settimane. La gente non vuole parlare e se lo fa preferisce rimanere anonima. Ha paura, non sa come difendersi. Ad essere prese di mira sono le abitazioni dei quartieri residenziali. Ogni persona che incontriamo conosce qualcuno che nell'ultimo periodo ha subito dei furti. L'ultimo, un signore che ha raccontato come i malviventi siano entrati nel suo mini appartamento addirittura malmenando il suo cagnolino senza tra l'altro portare via grandi cose. Io ho letto solo sulla pagina Facebook di Davagnacco che ci sono stati tanti episodi. Più a una mia vicina che lei lavora vicino all'Artene e anche lì c'è stato più di due o tre volte. Praticamente è arrivato dal lavoro, ha parcheggiato il furgone fuori casa, tempo di salire su. Ha notato dal terrazzo un furgone bianco che a un certo punto il tipo è sceso e praticamente ha visto il tipo avvicinarsi al suo furgone dato dalla dita, spaccargli il vetro. Quindi lei l'ha visto proprio? L'ha visto, gli ha urlato e il tipo gli ha fatto con la mano, diciamo stai zitta, perché pensava magari che non era suo. E praticamente gli ha preso la roba che c'era dentro e è scappato via. Più controlli quindi, ma soprattutto occhi aperti e massima attenzione. Perché a me è capitato sinceramente di vedere vicino a zona Muli Nuovo per andare a discarica. Ho visto che c'era un vargo di macchine parcheggiate e c'era un tipo che controllava le macchine. E forse stava pianificando qualcosa. Però siccome era di passaggio non potevo, non puoi accusare nessuno.